Buona giornata cari telespettatori, come sempre siamo in diretta anche con voi, con i nostri ospiti in studio. Un tema molto interessante, quello odierno, richiede un po' di attenzione, ma senza dubbio può andare a risolvere diverse perplessità e problematiche che più che mai in un momento di critico, di difficoltà, di evoluzione, come quello attuale, vengono in luce. Allora parliamo di patrimonio, dal piccolo patrimonio familiare che comunque esiste, che può avere una persona che ha custodito e che ha salvaguardato e ha cresciuto nel tempo, quello ben più grande di un imprenditore, di una grande realtà aziendale o anche media, piccola, artigianale, il patrimonio pur sempre ha una valenza straordinaria, importantissima e determinante per l'economia di mercato e quindi tutelarlo diventa strategico, importante. A valersi della consulenza di professionisti che sappiano valutare nel complesso la situazione della propria azienda, tra virgolette dico perché anche una famiglia è un'azienda, ha dei suoi bilanci che devono essere gestiti nel modo più congruo e poi dare un'attività di supporto per fare le scelte migliori e per non incappare in quelle terrificanti situazioni che quotidianamente, purtroppo leggiamo sui quotidiani, vediamo costantemente, sentiamo anche dalle vostre telefonate durante i talk show serali dove l'imprenditore si sente solo, isolato e commette delle scelte anche estreme. Allora vi presento i protagonisti che ci faranno capire un'evoluzione del modo di rapportarsi con il cliente, nella fattispecie stiamo parlando di commercialisti, ma il termine è un po' riduttivo, lo capirete bene e quindi vediamo di entrare nel merito della nostra tematica. Salviamo il patrimonio, mi raccomando. Allora, ben arrivato qui con noi al presidente di Delta R che ci fa il piacere di essere qui con noi in studio quindi di supportarci con la sua attività e spiegarcela anche bene. Paolo Mazzi, grazie di essere qui con noi. Marina Manna, commercialista, consulente, sempre consigliere di Delta R. Grazie anche di essere qui con noi a Dante Carolo, presidente dell'Associazione Triveneta Commercialisti, sempre consigliere di Delta R, ma siete tantissimi, 400, più di 400, per cui voi siete una stretta rappresentanza. Ben arrivato al dottore Andrea Cortellazzo, commercialista, sempre consigliere di Delta R. Grazie a voi. Prima chiariamo un attimo questa Delta R che ha 400 soci, quindi definirla una società sembra quasi riduttivo perché effettivamente è forse un qualche cosa in più, che ha festeggiato tra l'altro 40 anni. Certamente, certamente. Avete anche fatto un bel compleanno. Certo, abbiamo fatto un bel compleanno recentemente, magari poi faccio anche un cenno a quello che abbiamo fatto per festeggiare il compleanno. Certamente sono 400 soci, diciamo che è nata tanti anni fa con una filosofia di affiancamento ai professionisti, ai commercialisti, quindi è nata con una compagina sempre molto estesa, senza far riferimento specificatamente a singoli soci, quindi diciamo è un po' una sorta di public company. è nata per far fronte a una richiesta specifica di servizi che sono integrativi e collaterali a quelli che sono forniti dal mondo dei commercialisti, servizi che riguardano l'attività di revisione aziendale, l'attività fiduciaria, l'attività di organizzazione aziendale e quant'altro. Diciamo che si tratta di servizi che molto spesso il singolo commercialista non è in grado o non ha la convenienza di disorganizzare in proprio e quindi può essere opportuno che si avvalga di soggetti diversi. Ecco, dicevamo di questo compleanno. Stiamo vedendo le immagini un po', adesso ci sarà anche il convegno che avete organizzato e quindi è un po' l'occasione per fare un po' il punto della situazione. Certo, perché i compleanni naturalmente servono per guardare il passato ma anche per pensare al futuro evidentemente. Ecco, come è tipico di Delta R, in questa occasione abbiamo voluto organizzare un convegno che avesse anche delle ambizioni abbastanza elevate. Il titolo è stato Il futuro del capitalismo, cambiare le regole o cambiare il gioco. E direi che è stata un'occasione molto interessante, non tanto per individuare delle soluzioni, un tema talmente complesso e che viene dibattuto a livello internazionale che evidentemente non è che potessimo andare a risolverlo in un pomeriggio, quanto piuttosto per raccogliere delle riflessioni da interlocutori qualificati, per buona parte legati anche come passato al mondo di Delta R, professori universitari, imprenditori, eccetera. E diciamo che è stata un'occasione di confronto che ha portato a confrontarsi non tanto sul fatto che il capitalismo possa essere sostituito da qualche altro modello che non si intravede, perché certamente il capitalismo ha tante pecche, tanti problemi irrisolti per il futuro, ma difficilmente si intravede per lo minimo una prospettiva temporale di non lunghissimo periodo che vi possa essere un modello alternativo. Naturalmente il capitalismo, nelle varie eccezioni, perché c'è il capitalismo anglosassone, eccetera, evidentemente è una matrice che raggruppa tante modalità di sviluppo. E quindi, dicevo, abbiamo analizzato questo tema soprattutto in un'ottica non di sostituzione del modello capitalistico, ma di individuazione di regole, anche settoriali specifiche, per cercare di affrontare i problemi e migliorare il gioco. E qua naturalmente i vari professori sono, diciamo, smizzarriti in interventi specifici, molto interessanti e che hanno toccato nel particolare le singole problematiche che potevano riguardare il mondo della finanza, piuttosto che le crisi di imprese, eccetera. Assolutamente. Non è che adesso, poi lo faccio andando provocatoria, però, da analisi che sono state condotte, non si voglia, in fin di conti, mollare il modello di capitalismo. Che è ormai vecchio, è andato, è superato, ha mostrato veramente le sue tragiche lacune nell'abuso che ne è stato fatto di sistema. Ma siccome non abbiamo la capacità, nella volontà, soprattutto a certi livelli, di mollarlo, lo si continua ad utilizzare. Comporti quel che comporti, perché ci sta portando vecchio mondo alla rovina. No, no, certo, ma infatti l'analisi che è stata fatta è stata proprio questa, nel senso che stiamo andando ipoteticamente verso la rovina, probabilmente il modello capitalistico, come è impostato, non consente di risolvere i mille problemi che esistono. Bolla finanziaria, necessità di investimenti massicci per creare infrastrutture, per affrontare, ad esempio, in Italia i problemi ambientali, eccetera. È difficile che riusciamo a superare questi problemi. Probabilmente riusciremo a rotolarli avanti, portarli avanti, con i limiti che questa situazione evidentemente comporta. Però è difficile che si riesca a sostituire il modello capitalistico, perché nessuno ha in mente un modello alternativo. Quindi questo è un po' la risposta alla domanda. Il limite è questo, per cui ragioniamo in termini di cambiamento delle regole, pesante cambiamento delle regole. Ma il gioco resta lo stesso. Il gioco resta lo stesso, certamente. Quindi questa è un po' la risposta che era rimasta interlocutoria, in certo qual modo. Ecco, dicevo che evidentemente è stato un compleanno che ha voluto essere un passaggio importante con riferimento a questi temi. Diciamo che nel passato del TAER evidentemente sono occasioni di riflessione che vi sono state frequentemente. Cioè, del TAER, al di là dell'attività di prestazione di servizi, ha sempre voluto essere anche un punto di riferimento molto importante per il mondo professionale e direi anche per il mondo economico del Triveneto, a livello di cultura economica. Quindi ha sviluppato iniziative, ha sviluppato convegni di approfondimento su temi di estrema attualità. Ecco, e naturalmente pensando al futuro abbiamo rinnovato l'impegno a sviluppare questo ruolo. Accanto a questo evidentemente operiamo nel mondo professionale e dobbiamo cercare di vivere e di modificarci anche in funzione quelle che sono le modifiche richieste al mondo professionale. Assolutamente, quindi questo risulta un aspetto determinante. Dopo torniamo su questo discorso che è molto interessante. Volevo andare un po' anche nel tema specifico della puntata odierna. Perché dall'analisi di un sistema, che poi può essere l'occasione, il compleanno del TAER, ma potrebbe essere anche voi ne affrontate tanti di temi, ad andare più addentro a quella che è un'altra problematica, cioè il patrimonio, che è stato, anzi ha i fucili puntati contro. Perché sembra che avere un patrimonio, qualsivoglia questo possa essere, è un peccato. E no, veramente, l'imprenditore lo vive male, ma anche il privato cittadino che lo vede sgretolarsi quotidianamente. E quindi cosa fare? Come difendere questo bene che in realtà è il bene della nostra economia? Lo è stato fino a ieri? Certamente. La Delta R ha sempre posto un'attenzione particolare a tutte quelle che sono le esigenze, come ci diceva il Presidente, le esigenze degli imprenditori, dei colleghi, ma soprattutto dei cittadini in generale. E quindi ha sviluppato nel tempo una serie di interventi che servono anche appunto a risolvere le problematiche che emergono in funzione dell'andamento dell'economia, dell'andamento della società. Diciamo che negli ultimi anni ha sviluppato uno strumento nuovo di tutela del patrimonio, nuovo in Italia, nuovo nel nostro contesto sociale. In realtà si tratta di uno strumento che è molto diffuso nel mondo anglosassone, lo strumento del trust, che è andato ad affiancare altri strumenti di tutela, quali appunto lo strumento fiduciario di cui magari poi parleremo. Però bisogna che spieghiamo assolutamente, perché non tutti riescono a seguirci. Quindi con parole molto semplici, che strumento è? E quindi che cosa può servire nell'esempio concreto? Lo strumento del trust serve per rispondere a delle esigenze anche molto banali. Prendiamo il caso ad esempio di una famiglia che abbia un figlio disabile, un figlio che ha appunto dei problemi fisici o psichici e che nel tempo, nel futuro, non avrà un'autonomia per poter gestire il suo patrimonio. Molto spesso ci siamo trovati a parlare con genitori preoccupati di questo futuro dei propri figli e in questo caso lo strumento del trust risolve proprio queste esigenze. Consente cioè di creare una situazione all'interno della quale viene appunto trasferito il patrimonio che si vuole destinare al futuro dei ragazzi che magari presentano appunto queste disabilità. In questo modo i genitori assicurano una tutela del patrimonio perché consentono che questo patrimonio venga gestito da un soggetto terzo come può essere il caso della Delta R come Trust Company gestito però con degli obiettivi precisi, con delle finalità precise che sono quelle appunto di garantire il futuro di questi ragazzi in difficoltà. Quindi amministratori sostanzialmente. Diciamo che è una sorta di amministrazione, gestione del patrimonio in funzione di desiderata di obiettivi che il disponente si pone per evitare che questo patrimonio possa essere diciamo mal gestito o mal finalizzato agli obiettivi che ci si pone. Ma non sono solo questi i casi, ovviamente sono tantissimi. Pensiamo ad esempio alle cause di separazione, di divorzio, genitori che decidono appunto di separarsi e che devono in qualche modo diciamo garantire che il patrimonio che hanno costruito nel tempo per le esigenze della famiglia siano poi, questo patrimonio sia tutelato e sia destinato al soddisfacimento delle esigenze magari dei figli. Attraverso lo strumento del Trust i genitori che sono in fase di separazione o di divorzio possono convenire sulla destinazione di questo patrimonio per le esigenze magari della prole. Ci sono situazioni in cui i genitori o delle persone che hanno appunto ovviamente un contesto familiare di un certo tipo si ammalano. Abbiamo affrontato anche questo tipo di problematica e quindi non hanno diciamo una tranquillità nell'evoluzione della loro salute. e quindi vogliono diciamo destinare questo patrimonio innanzitutto per se stessi, per le proprie cure, per il recupero della propria salute ed eventualmente in caso di situazioni più difficoltose di poter avere tutte quelle, l'assistenza necessaria per il mantenimento. Quindi portandolo fuori dal nucleo dell'affettività, dei rapporti familiari che a volte sono complessi, difficili. Questi sono solo alcuni dei casi in cui noi abbiamo provato a realizzare questo strumento e ne abbiamo sicuramente valutato la bontà. È uno strumento molto dinamico, voglio dire una volta si utilizzava in un ambito familiare tradizionale dove ci sono i coniugi e i figli si utilizzava il fondo patrimoniale. Ah, infatti stavo pensando al fondo patrimoniale. Che è più conosciuto come strumento perché diciamo è codificato nel nostro sistema normativo ma è uno strumento appunto anche datato, nel senso che ha presentato tutta una serie di limiti. Il fondo patrimoniale è diciamo una sorta di scatola all'interno della quale vengono messi dei patrimoni, dei beni per la gestione degli interessi familiari, ma è una gestione statica, cioè i beni rimangono fermi. Invece qui c'è la presenza di consulenti che riescono in qualche modo anche a vedere nell'evoluzione delle varie situazioni anche economiche e sociali dell'individuo e quindi riuscire a seguire le varie vicende. Esattamente. Questo è molto importante. Riflettiamo anche su questo, poi vediamo adesso di portare anche lo stesso tipo di assistenza nei contesti più articolati delle realtà imprenditoriali, piccole, medie e anche grandi, relativamente grandi rispetto al nostro territorio. Andiamo in pubblicità a pochi secondi. Allora, dottor Cortellazzo, bene ha detto la dottoressa Manac, tutela del patrimonio, può essere rivolto alla famiglia, ai casi estremi che riguardano tantissimi, tre estremi, situazioni gravi, che però purtroppo riguardano molte persone. Entriamo nell'ambito delicatissimo dell'impresa. Vuoi questa di tipo artigiano, che comunque da noi le imprese artigiane non sono fatte da un singolo professionista, ma comunque dei dipendenti, hanno un loro valore, hanno beni immobili e quant'altro, vuoi quella un po' più grande, che comunque è presente nel nord-est produttivo. E lì che cosa succede? Beh, succede intanto che bisogna che diamo un connotato preciso al termine patrimonio, nel senso che patrimonio, come verrebbe a me da definirlo, perché non è solo un patrimonio fisico, materiale, ma c'è anche molto patrimonio di conoscenza, di competenza. Il famoso know-how aziendale che ha un valore grandissimo. Sto preoccupando molto degli aspetti materiali, ma il vero rischio è di sperdere le competenze che ci sono in questo territorio, che sono competenze imprenditoriali, artigianali, professionali. Per cui mi riaggancio a quello che diceva il Presidente Mazzi poco fa, cioè questa iniziativa del TRE ha un privilegio di conoscere bene il proprio territorio, di seguirlo da oltre 40 anni, per cui sappiamo bene dove siamo arrivati e qual è il problema che ci sta, ci si è presentato. È un problema, da un lato, di conservare e proteggere quello che abbiamo, ma, ahimè, anche di continuare a sostenere un'evoluzione che, pur difficile, ci dovrà essere. E aggiungo anche un'altra considerazione, ne parlavamo poco fa, prima dell'inizio della trasmissione, il nostro è un territorio caratterizzato da una parcellazione notevolissima di piccole o piccolissime imprese, e quindi il nostro è un sistema estremamente fragile, estremamente fragile e con una difficoltà di fare sistema. La difficoltà nel fare sistema è anche nei professionisti. La paura poi. La paura di aggregarsi, di condividere. Ecco, del TRE ha cercato e continua ostinatamente a fare questo, di cercare di essere un punto di osservazione, un punto di aggregazione per i professionisti e per le aziende e imprese che stanno dietro. Ma entriamo nel tema che lei ci ha sollecitato. Quindi proteggere i patrimoni, proteggere i patrimoni di questo territorio, anche dal punto di vista imprenditoriale, è un tema molto delicato e molto difficile. Per proteggere appunto questo genere di patrimoni dobbiamo essere i più competenti possibile e fare squadra con le migliori competenze che abbiamo nel territorio. Io interrompo un attimo perché entra bene anche nel discorso che si sta affrontando adesso di riforma del mercato del lavoro. Allora, siccome il patrimonio di un'azienda è fatto dalle competenze, dalle persone che lavorano all'interno di un'azienda, stiamo vedendo un depauperarsi di molte realtà aziendali dove magari l'imprenditore non ha tutte le capacità, si è trovato spiazzato da questa crisi di rompente, eccetera, perché alcuni sono anche molto oculati e fanno dei ragionamenti ben precisi, dove le competenze più qualificate vengono meno e spazzate in virtù del costo che rappresentano per un'azienda. Perché sappiamo che un professionista dei famosi 50-55 anni si trovano tanti a livello quadro e quanti altri si sono trovati per strada con un patrimonio di conoscenza, poi diventano consulenti per carità. Però, sprecate, l'azienda qualitativamente perde livello, cioè riesce magari a reggere certi ritmi in un momento blando, come c'è il picco, tira su quel che tira su, i famosi giovanetti con contrattini che poi fanno piangere, che però quello con la celebre frase discutibile di Monti sarà il futuro e quindi questa diventa la nuova realtà aziendale. Ma viene dequalificata l'azienda, il patrimonio ne viene in qualche modo eroso, in modo rilevante. Così facendo allarghiamo ancora il ragionamento, però è per dire che da un lato bisogna conservare e proteggere l'esistente e ci sono strumenti specifici per determinate situazioni specifiche, anche tecniche che si possono utilizzare. Dall'altro punto di vista però bisogna sostenere un'evoluzione e quindi probabilmente in questa fase delicata è opportuno fare l'una e l'altra cosa e quindi fare sistema tra tutte le competenze esistenti messe a fattor comune quantomeno possono aiutare imprenditori, privati, professionisti, in particolare di questo territorio che ha la sfortuna da un certo punto di vista di essere sempre stata la locomotiva del paese. Perché è una locomotiva che oggi non è abituata a rallentare e ai mei stiamo rallentando in modo molto significativo. Per cui tornando al tema, ci sono degli strumenti anche in corpo a Delta R, strumenti tecnici, il Trust l'ha citato poco fa la collega Manna, di fiduciari, di mandati fiduciari con contesti specifici in ambito commerciale delle aziende, dirà sicuramente qualche cosa l'amico Dante Carollo, però in generale il sistema di competenza di Delta R ha sempre cercato in questi 40 anni e oltre di guardare un po' più avanti e di cercare di rappresentare intanto per i professionisti, ma dietro a ogni professionista ci sono le imprese e dietro alle imprese ci sono le famiglie, quindi per tutto il sistema del nostro territorio di supportarle anche con un'ottica che guarda un po' più avanti. In Delta R coesistono questi aspetti tecnici, ma coesiste anche un'attenzione alla formazione, coesiste un'attenzione all'organizzazione aziendale, coesiste un'attenzione privilegiata alla revisione contabile, sempre però in un ambito, in un'ottica di supporto al professionista del nostro territorio che fa parte di Delta R o che non fa parte di Delta R, perché lo consideriamo un osservatorio e un punto di aggregazione che in passato è stato di stimolo, oggi deve essere anche difensivo per queste competenze. Ecco, ma dov'è l'errore che si sta perpetrando da parte di molti imprenditori del nostro Nord-Est? L'errore che è stato ravvisato anche da studiosi dall'esterno, che era il punto di forza e che sta diventando invece questo punto di debolezza. Ma una volta si diceva che piccolo era bello, forse queste realtà piccole non hanno la capacità di interloquire con il mercato, per esempio, bancario, che non hanno la forza, quindi riuscire anche a fare squadra da parte di questi imprenditori sarebbe un modo migliore per poter dialogare. L'esempio di Delta R, tra l'altro, è un modo per fare squadra tra professionisti. Un professionista non può essere un tuttologo e quindi si avvale anche di queste realtà che stanno attorno, si parlava prima di 400 colleghi, che hanno ognuno delle professionalità e che vengono messe a disposizione del collega che ne ha necessità e che vengono date a queste imprese che hanno bisogno. Infatti tra le attività di Delta R ci sono anche dei settori specifici che vanno a fare dei check-up aziendali per vedere dove ci sono le falle, dove si può intervenire, dove si cerca di creare delle eccellenze. Questo è un modo, è un esempio per fare squadra. Anche gli imprenditori in questo momento dovrebbero cercare di guardarsi intorno, lasciare da parte un po' il proprio io e cercare di vedere se c'è qualcosa per poter fare assieme. È un momento per aggregarsi. È un momento di fare delle scelte importanti. Anche il tema del convegno di cui parlava il Presidente prima, cambiare la regola, cambiare il gioco, è anche un modo per mettersi in discussione, un punto di partenza, non pensare che sia già un punto di arrivo. Cioè cominciare a capire se c'è qualcosa da fare assieme, trovare delle sinergie, delle eccellenze. Le eccellenze ci sono e forse facendo squadra si ha più forza nel mercato. Secondo lei c'è la disponibilità a mettersi a tal punto in discussione da parte dell'impresa? Ma penso che sia necessario in questo momento perché aspettare... Non è necessario senza dubbio, ma c'è la disponibilità. Ma l'imprenditore è sempre stato abituato ad affrontare i problemi, quindi penso che una volta che abbia metabolizzato questo, sicuramente lo slancio c'è. Stiamo osservando che ci sono delle iniziative su questo nel territorio e bisogna andare avanti, quindi il coraggio bisogna trovarlo. Ripeto, l'imprenditore è abituato ogni giorno a svegliarsi, a trovarsi un problema sul tavolo e doverlo affrontare. Sicuramente non sarà una cosa facile, però l'iniziativa e la tendenza c'è. Assolutamente. Presidente, facendo esempi concreti che poi sono quelli che anche magari colgono le situazioni di chi ci sta seguendo, per esempio il settore edile. Ci sono dei congressi interessantissimi, provocatori, un'attività di assistenza da parte dell'associazione di costruttori edili, eccetera. Poi, molti imprenditori che partecipano, non escono, sì sì, vabbè, belle parole, però poi mi fascio così, perché secondo me il settore edile è uno di quelli dove, sappiamo benissimo, traino dell'economia, rilevantissimo, dove questo elemento vecchio di gestione è più radicato. In quest'ambito, quindi esempio concreto per fare, come è possibile supportare e attuare un'attività di tutela del patrimonio? Dov'è in asta? No, no, certo, certo, ma penso che soprattutto nel settore edile proprio l'attività debba essere rivolta a far percepire quella che è la valenza di determinati problemi. Cioè l'imprenditore a volte non valuta correttamente la priorità di certi problemi, il problema si ingigantisce progressivamente perché viene sottostimato e poi porta a una situazione che diventa difficilmente recuperabile. Io penso che la funzione nostra come professionisti sia proprio quella di cercare di stimolare l'attenzione su questi aspetti e cercare di portare l'imprenditore a riflettere, quindi a individuare anche delle soluzioni che possano essere rivolte a superare queste crisi. soluzioni che evidentemente passano attraverso il superamento di determinati status passati. È chiaro che l'imprenditore tipico edile, come anche di altri comparti, è abituato a operare in proprio, individualista, un po' come i professionisti. E quindi difficilmente è aperto a integrazioni o a soluzioni di questo genere. Oggi probabilmente si pongono questi problemi, nel senso che se vuoi sopravvivere devi cercare di guardare all'esterno, devi cercare anche delle possibilità di integrazione, devi cercare anche di farti consigliare per affrontare rapidamente delle soluzioni innovative, tipo la rete d'impresa, ad esempio adesso nel settore di live probabilmente... Perché la parola rete d'impresa sono delle parole che terrorizzano gli imprenditori. Certamente, diciamo che la scommessa in queste cose è cercare di mantenere una parte di individualità senza perdere completamente... Naturare quella che è la propria posizione, diluendosi in un ambito più ampio. Cercare nello stesso tempo di fare, di trovare delle soluzioni che possano ricercare la forza dell'insieme. C'è possibilità quindi, secondo i vostri studi? Comincia a esserci questa possibilità, nel senso che comincia a esserci una crescita, anche grazie alla divulgazione che viene fatta dal mondo delle associazioni, ma anche direi attraverso la consapevolezza progressiva che stiamo acquisendo noi come professionisti e come commercialisti, perché se ne parlava prima, stiamo purtroppo anche noi rapidamente inseguendo una situazione professionale che fino a qualche anno fa ci vedeva intervenire praticamente ex post, l'imprenditore ci portava i problemi da risolvere, invece adesso dobbiamo affiancare l'imprenditore, ex ante, quindi vedere quello che è dietro l'angolo. Cercare di portarlo a affrontare prima queste situazioni. Ante Carola vuole intervenire? No, no, sì, volevo intervenire che poi, sicuramente come avevo detto prima, l'imprenditore è predisposto a questo. Certo che poi l'imprenditore dovrebbe essere anche supportato da una legislazione vuole fiscale. Una certezza del diritto. Una certezza del diritto, ma anche delle agevolazioni per cercare di incentivare queste aggregazioni, perché se hai un incentivo di questo tipo, sicuramente sei più predisposto a vincere magari dei tabù di essere singolo e di creare queste reti. Non voglio utilizzare il termine perché poi... Però comunque un incentivo a queste cose, perché le eccellenze non dobbiamo mollarle, dobbiamo trovare il sistema per tenerle tra noi e cercarle di gestirle insieme. Quindi se ho un incentivo statale, il politico dovrebbe essere molto attento a queste realtà e molto attento anche al nostro territorio, dove la locomotiva delle tre venezie è appunto data da queste piccole e medie imprese. Diciamo più piccole che medie. Assolutamente, sì. Solo per esaurire questo argomento del fare rete, fare sistema, collegandomi a quello che Dante Carollo stava riportando in termini di agevolazioni, di incentivazioni. Ecco, è giusto ribadire che anche gli imprenditori vengono incoraggiati ad affare questi passi, perché in alcune regioni d'Italia, e arriverà anche nel Veneto, ci sono delle contribuzioni per le reti di impresa molto significative, la Lombardia in primis, ma anche le Camere di Commercio, ad esempio di Ferrara, con l'Associazione Industriale di Ferrara, si stanno muovendo e sono contributi significativi. Cioè parliamo di decine e decine di milioni di euro che sono a investimento per finanziare la realizzazione di aggregazioni. perché il problema oggi piccolo non è più bello, vale per tutti, vale per le imprese, vale per i professionisti, vale per il nostro sistema, in particolare del nord-est. Assolutamente, no, questo è un dato di fatto che bisogna metabolizzarlo. Per cui gli strumenti ci sono, si tratta di far squadra e di creare più osservatori possibili, più punti di riferimento possibili, come il nostro può essere uno di questi, dove ciascuno di noi si presta e dedica un po' di tempo a queste attività pur di garantire un futuro di sviluppo, in sostanza, non solo di protezione. Assolutamente, questo è vitale. Prima di fare la domanda a lei, dottoressa, vorrei chiederemo magari alla regia, mettiamo la pubblicità, perché dopo se no ci interrompiamo sul più bello che magari entriamo anche in un discorso interessante. Pochi secondi di pubblicità, poi torniamo insieme. Dottoressa Manno, io poi volevo farle anche una domanda se abbiamo il tempo anche relativamente al passaggio generazionale, perché è un altro argomento dove il patrimonio non se ne parla più, perché adesso ci sono ben altre tematiche, però anche quello è un argomento caldo. Per tornare a un discorso all'impresa edile, che è una realtà molto interessante, purtroppo che sta soffrendo. Sì, infatti è proprio con riferimento anche a questo settore, che prendiamo ad esempio per parlare di un'esperienza proprio recente. Le difficoltà in cui versa il settore edilizio rendono necessario proprio ipotizzare degli strumenti di tutela del patrimonio. L'imprenditore edile oggi si trova nella difficoltà di vendere in tempi rapidi i propri beni, i propri immobili che sono stati realizzati. E questo, diciamo, mette in difficoltà l'imprenditore sotto il profilo finanziario in una situazione in cui poi il sistema bancario non sta aiutando le imprese. Sappiamo quali sono le difficoltà in cui versa lo stesso sistema bancario e quindi le difficoltà che incontra l'imprenditore ad accedere al finanziamento bancario. Allora, in questa situazione l'imprenditore teme le azioni di fornitori, di creditori, di terzi che possono compromettere la realizzabilità del compendio immobiliare in vendita e creare serie difficoltà all'azienda. In questo contesto lo strumento del Trust consente di realizzare in un'ottica di garanzia la tutela del patrimonio dell'imprenditore. Perché? Perché è evidente che, diciamo, segregare il patrimonio in questo strumento, con questo strumento consente di gestire la crisi dell'impresa, che si spera appunto possa risolversi in tempi ragionevoli, di gestire la crisi di impresa dando le massime garanzie a tutti i creditori che quel patrimonio verrà destinato al pagamento dei debiti aziendali. E questa è una cosa molto importante. È molto importante, avendo soprattutto il tempo di poter realizzare la vendita dei beni senza avere l'assillo di doverlo fare in tempi rapidi, magari svendendo i beni stessi. Assolutamente. Per rispondere a uno dei messaggi che sono arrivati dai nostri telespettatori, le tasse, che è un argomento attuale, poi vedremo anche i provvedimenti che verranno presi per quanto riguarda l'impresa. Giustamente diceva, difficile tenere aperta un'impresa, anche più che mai nel settore, dire quando ci sono le tasse che ti ammazzano praticamente. Questo è un altro problema, cioè tutela del patrimonio dalle tasse. Eh, ma questo è un tema che diventa difficile affrontare, nel senso che evidentemente siamo... Ma solo le 24 ore mi sa che domani proprio affronta questo capitolo, proprio sulla tutela del patrimonio e dal fisco. Ecco, certamente ci può essere, o meglio, il quadro di riferimento lo conosciamo tutti, è chiaro che è un paese che è fortemente indebitato, in cui le tasse, quelli che le pagano, devono pagare ancora di più, perché purtroppo la situazione è questa. Ma l'impresa come fa? L'impresa, l'impresa purtroppo deve ugualmente... Che voi siete commercialisti, no? Quindi di queste cose... Deve far fronte a questa necessità, perché quelle imposte purtroppo pesano, e pesano moltissimo, sono veramente una componente che diventa fondamentale per un'attività che viene gestita naturalmente in maniera corretta. Il fisco sta, tra l'altro, diventando sempre più aggressivo, e sappiamo tutti... Ma contro gli evasori, cioè per carità... No, no, ma a parte contro gli evasori, ma anche in sede di discussione, purtroppo in sede di discussione, naturalmente il fisco a questo punto deve cercare di portare a casa il più presto possibile delle risorse, aggredisce i patrimoni e iscrive ipoteca, eccetera, e questo lo sappiamo, abbiamo naturalmente vissuto in questi periodi le polemiche nei confronti di Equitalia, che è lo strumento di discussione. Certamente non è una situazione facile, qui evidentemente non è che si possano fare... O si interviene a livello normativo in modo chiaro, ma sembra che non ci sia la volontà politica. Onestamente si interviene a livello normativo, certamente può essere possibile, però dall'altra parte c'è un fisco, uno Stato italiano che deve comunque fare gettito. E quindi la risposta nostra telespettatore... La risposta deve essere quella di cercare di andare a inseguire la correttezza di questi comportamenti, andare a verificare che tutto quanto si svolga nell'ecito, perché a volte c'è qualche sbavatura anche in queste attività di discussione, e quindi farsi tutelare al meglio, poi certamente è un'aggressione pesante, che mette a repentaglio la vita dell'impresa. Solo sul tema commercialista, aspetti fiscali, tasse, cerchiamo anche di dare un contributo nell'ottica dello sviluppo delle aziende, cioè io torno ancora su questo argomento per dire che la ricchezza bisogna tornare a generarla... Ma guarda, dico, dagli interventi, a parte questi pochi messaggi... Ma capisco la preoccupazione che... Non c'è tanta più volontà di... Ecco, noi invece vorremmo anche aiutare e continuare a aiutare su questo piano, perché questo territorio continua ad avere delle eccellenze, se riusciamo ad evitare che queste eccellenze vengano disperse e che i nostri anche migliori talenti se ne vadano da questo territorio, con queste risorse noi possiamo, se tutti danno un contributo, tornare a sviluppare quello che forse con eccessiva facilità si è pensato di sviluppare. Adesso la partita è diventata veramente molto impegnativa, e per quello che torno a dire non vanno disperse le competenze, non vanno disperse le risorse. Quindi è giusto però che anche il fisco sia limitatamente, del possibile, meno aggressivo, ma lo diventa anche se torniamo ad avere una ricchezza che consente di avere una base un pochino più. Probabilmente la percezione dell'imprenditore medio del nostro territorio, fino a non molto tempo fa, era che il commercialista lo aiutasse a pagare meno tasse. Oggi il commercialista deve soprattutto aiutare l'azienda, non dico a sopravvivere, ma a crescere, anche stimolando a fare ciò che gli va contro natura, probabilmente, cioè quello di mettersi assieme ad altre imprese e raggiungere una soglia di competenze, dimensioni e anche di livelli di servizi per trovare una maggior competitività. Assolutamente, in conclusione dottoressa, sa quello a fare un intervento? No, io sono assolutamente d'accordo con il collega che probabilmente dobbiamo spostare l'attenzione dal pagamento delle imposte ad una crescita, a uno sviluppo, a idee nuove, nell'ambito poi appunto di una sana tutela del patrimonio. Infatti non c'è il tempo a disposizione, ma una battuta, è la tutela del patrimonio nei passaggi generazionali, che comunque continuano ad esserci, perché non è che la crisi ha bloccato quelli. Nel passaggio generazionale sicuramente una riflessione va fatta, perché una delle debolezze probabilmente di questo sistema del nord-est è stato quello di non avere, diciamo, una lungimiranza nella crescita dell'azienda, indipendentemente dall'imprenditore che era poi, diciamo, il titolare, il capo, il creatore dell'azienda. E in quest'ottica, nel passaggio generazionale, molti strumenti possono essere individuati, e non ultimo io ritorno sempre al Trust, che è uno strumento davvero molto interessante anche per il passaggio generazionale e anche per la successione dell'imprenditore, non solo dal punto di vista aziendale, ma anche patrimoniale, perché consente di realizzare in un'ottica di medio e lungo periodo degli obiettivi che sono fondamentali ai fini della vita dell'azienda, della vita della famiglia dello stesso imprenditore. Quindi, ancora una volta, una funzione del professionista che deve, come diceva prima il Presidente, il Dottor Mazzi, deve aiutare a crescere, deve aiutare a prevedere, deve aiutare a prevenire, e non solo a curare poi i malesseri, i mali di questo periodo. Assolutamente. Presidente, come ne rappresenta anche la categoria? Faccio un po' una provocazione rapidissima in pochi secondi. Ma a questo punto, crescita dei professionisti, perché molti imprenditori lamentano questa. Ma di fatti no. Io penso che ognuno deve fare la propria parte. Anche il professionista deve cambiare l'atteggiamento, essere proattivo, e non solo come succedeva forse qualche tempo fa ad aspettare a risolvere i problemi, ma cercare di evitare i problemi e di essere proattivi con i propri clienti. Quindi cercare, come abbiamo detto, delle aggregazioni laddove sono possibili, o comunque trovare nuovi sbocchi e cercare di generare ottimismo anche in questi imprenditori, perché sono la forza del Paese. E cercando anche con un fisco di creare un rapporto paritetico e abbandonare tutta la documentazione ed essere più propositivi e riuscire a parlare sullo stesso tavolo senza avere delle imposizioni o comunque pensare solamente di fare cassa. Assolutamente. Poi ci sono dei messaggi che arrivano in cui dice che tra un po' il vero sarà ben poco del patrimonio del nostro Stato, perché anche questo è un patrimonio importantissimo che deve essere tutelato in senso lato, e quindi ci sono preoccupazioni un po' in generale per la tutela di un patrimonio in senso lato, in senso lato, in senso inteso, insomma, questo è importante, perché ci troviamo in un contesto dove siamo veramente barricati. E' stensibile questo discorso? C'è il dico in questo senso, siccome vediamo, un po' una battuta politica, che il particolarismo, il federalismo è minato alle radici da un centralismo spinto, questo può minare anche il patrimonio delle varie realtà locali, quindi di un'impresa, un ente pubblico o quant'altro, più una battuta di chiusura? Ma non credo io questo, no, non credo, nel senso che alla fine, perlomeno guardando alla realtà nostra, credo che possiamo superare questi aspetti in maniera abbastanza tranquilla. Abbiamo la forza per farlo. Quindi secondo me la vede in positivo, insomma. Sì, certo. Quindi questo per rispondere un po' anche agli altri messaggi che stavano arrivando. Benissimo, grazie ai nostri ospiti di essere intervenuti con noi, grazie a voi telespettatori di aver partecipato. Noi come sempre ci troviamo domani alle 12.40, con un altro tema estremamente interessante, quindi non ve lo anticipo, ma vi aspetto domani. Grazie.